Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante come si realizza la bibliografia per un testo scritto con un foglio di videoscrittura che potrebbe essere la tessi di laurea. Noi utilizziamo LibreOffice, in particolare lo facciamo oggi manualmente anche se LibreOffice ha uno strumento specificamente dedicato alla bibliografia. Noi l'abbiamo fatto manualmente. Che cosa abbiamo fatto? Utilizziamo all'interno di LibreOffice il foglio di calcolo. Potrebbe essere anche Microsoft Excel il discorso identico, noi utilizziamo Calc. E ci siamo organizzati una tabella, praticamente un database così come volevamo noi. Abbiamo messo questo campo identificativo perché all'interno di una tessi di laurea si potrebbero per esempio citare più libri della stessa persona, quindi la stessa persona comparirebbe più volte e quindi c'è bisogno di distinguerlo con un identificativo. Io potrei citare per esempio due libri diversi di uno stesso autore e quindi qui sarebbero due record diversi. Noi ci siamo organizzati in questa maniera, poi ognuno utilizza lo stile. Abbiamo messo il cognome, il nome, il titolo, il tipo, eccetera, le edizioni. L'importante è mettere questo identificativo univoco. E poi l'abbiamo salvato, d'accordo? L'abbiamo salvato semplicemente come se fosse un foglio di calcolo. L'abbiamo chiamato bibliografia manuale. Allora che cosa facciamo? Apriamo il foglio di videoscrittura. Noi utilizziamo il Writer, ma la stessa cosa si può fare con Microsoft Word. E iniziamo a scrivere, facciamo esempio, la nostra tesi. Facciamo che questo è il primo capitolo, no? Primo capitolo della nostra tesi. Facciamo così, della nostra tesi. Sì, molto velocemente. Scegliamo come stile il titolo 1 e vedete che viene un pochino più grande. Allora facciamo in questo capitolo, in questo capitolo mettiamo la prima citazione. Andiamo a capo e andiamo a... Noi ci siamo preparati un fogliettino così con alcune citazioni giusto per inserire qualcosa. Questa qua di George Bernascio che dice le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali oppure fanno ingrassare. Quindi così la prendiamo giusto per scrivere qualcosa. Facciamo tasto destro, copia. E facciamo qui tasto destro. In colla speciale facciamo testo non formattato così lo riformattiamo noi come citazione. Quindi mettiamo il cursor all'interno e scegliamo qui all'interno, per esempio, vediamo se lo troviamo. Ci dovrebbe essere citazione, testo citato. Ecco, vedete che viene spostato un pochino più qua. Poi possiamo fare quello che ci pare. Adesso noi facciamo invio. E noi dobbiamo scrivere da dove viene questa citazione. Come si fa? Noi dobbiamo collegare quel database che abbiamo fatto con Calc a questo documento. Perché Calc e Writer sono documenti diversi. Quindi bisogna fare questa connessione di una sorgente di dati che in realtà è esterna. Tecnicamente in italiano viene chiamata registrazione perché viene dalla traduzione dall'inglese. Come si fa? Allora si va nel menu riferimenti e poi si sceglie altri campi, cioè campi di testo che provengono da un soggetto esterno e clicchiamo. Facciamo sfoglia per indicare qual è il nostro database. E vedete che è proprio questo qua, andiamo sul desktop però, è bibliografia manuale ODS, Open Document Spreadsheet. Noi stiamo collegando un'entità esterna al foglio di videoscrittura prodotta con un foglio di calcolo. E facciamo apri. Vedete che viene questo simbolino, questo simbolino sembra dei tre dischi, è il simbolo dedicato a sorgenti di dati esterni. Se noi clicchiamo vediamo che all'interno appare per esempio la dicitura letteraria perché noi nel foglio di calcolo, perché l'abbiamo scelto questo foglio di calcolo? Perché in pratica se uno utilizza questo tipo di tecnologie, all'interno di tab diversi può fare delle bibliografie tematiche, cioè mettere tutti gli autori letterari da una parte, tutti quelli scientifici, tutti quelli medici. Siccome noi in questi tab non abbiamo messo niente, ecco che nella registrazione, cioè nella connessione del database, lo strumento ci dice soltanto che c'è disponibile questa qua. Questa qua letteraria. Allora chiudi, facciamo chiudi. Ricordiamo quello che abbiamo fatto, siamo andati semplicemente in riferimenti, siamo andati in altri campi e poi abbiamo selezionato il tasto sfoglia, siamo andati nel desktop e abbiamo scelto il nostro foglio di calcolo, bibliografia manuale. D'accordo? E poi abbiamo fatto inserisci e ecco qua. Allora, a questo punto, se noi facciamo per esempio nella tastiera del computer CTRL maiuscolo F4, ripeto CTRL maiuscolo F4, noi vediamo a sinistra qui che questo documento di testo ha inserito, diciamo, ha connesso alla sua struttura un qualcosa di esterno che è la bibliografia manuale. Ma all'interno del foglio di calcolo quanti tab avevamo? Noi ne avevamo, vedete, di tabelle, noi ne avevamo tre ma di cui una sola aveva dei dati. Se la doppio clicchiamo, vedete che ci rendiamo conto che lui ci riporta, diciamo, internamente, ci segnala internamente al foglio di videoscrittura quello che è contenuto nel foglio di calcolo. A questo punto noi possiamo fare semplicemente così, siccome questa citazione di George Bernard Shaw, noi selezioniamo il campo, facciamo tasto destro copia, mettiamo qua il cursore, facciamo tasto destro incolla ed ecco che ci apre una finestrina molto carina in cui ci si dice, ci si chiede se vogliamo incollare la tabella, i campi o il testo. Facciamo testo e qui possiamo scegliere quello che ci pare, per esempio io ci metto il nome, io ci metto il cognome, per esempio ci metto l'anno, possiamo metterci anche il titolo. Facciamo, ci mettiamo anche il titolo, vedete, cioè io sto estraendo dei campi da un database esterno e poi l'anno. E questo rappresenta la mia citazione, faccio ok ed ecco che vedete che è venuta la mia citazione. Poi io qui posso fare, a questo punto posso fare quello che mi pare, io posso prenderlo e fare, che ne so, grassetto, corsivo e qui per esempio poi ci posso mettere, non so, le virgolette. Cioè poi dopo uno sceglie la sintassi che per esempio o l'Ateneo, il dipartimento, il professore dice di utilizzare. Vedete che io in questa maniera qua ho tutta la mia bibliografia sempre pronta, posso selezionarla, fare copia e incolla. A questo punto, io ho fatto questa citazione nel primo capitolo, la facciamo così, facciamo un secondo capitolo. Secondo, scriviamo bene, facciamo il secondo capitolo della nostra tesi e gli diciamo sempre che lo stile è quello del titolo 1 del capitolo. Poi facciamo invio e facciamo semplicemente, stiamo semplicemente tentando di fare, un attimo che ho fatto un pasticcio, stiamo tentando di fare un esempio per fare un'altra citazione. In questo capitolo, adesso ci scriviamo, in questo capitolo scriviamo la seconda citazione. L'abbiamo fatto in grassivo corsetto senza volere, lo togliamo grassivo corsetto. Allora, mettiamo la seconda citazione, la andiamo a prendere, la andiamo a prendere da qua e la seconda citazione dice non rimandare a domani quello che può essere fatto e dopo domani è altrettanto bene. È una citazione carina di Mark Twain, la selezioniamo, copiamo giusto per avere del test da scrivere in questa tesi e la incolliamo. A questo punto qui scegliamo sempre lo stile testo citato e vedete viene spostato un pochino a destra e qui dobbiamo inserire chi è il soggetto. E' Mark Twain, quindi dal database collegato noi facciamo così, selezioniamo il campo di Mark Twain ma non ci dobbiamo mettere tutto quanto. Quindi facciamo copia, facciamo tasto destro, incolla, ci apre questa finestrina e diciamo il testo e un'altra volta siamo noi a scegliere quello che vogliamo mettere. Il nome, il cognome con questa freccia, poi ci mettiamo il titolo del libro e ad esempio l'anno. Eccoci qua, facciamo ok ed ecco che un'altra volta noi abbiamo scritto la citazione in una maniera abbastanza veloce e avendo la possibilità di controllare tutti i nostri libri letti all'interno di una risorsa unica che noi abbiamo collegato. Poi che cosa si fa? Alla fine quello che si può fare, noi andiamo in per esempio layout e facciamo interruzioni di pagina e qui ci scriviamo bibliografia. Cioè alla fine della testi si cita tutta la bibliografia. Andiamo sempre qui e diciamo il titolone quello grosso, questo qua va, vedete bibliografia. Qui adesso io ci devo mettere tutto, allora io quello che posso fare è selezionare, vedete con control, io seleziono dall'interno, ho fatto control maiuscolo e F4, vedete con control maiuscolo F4 viene fuori la lista di tutti i database registrati, cioè connessi al nostro foglio di video scritto. A questo punto io posso con control per esempio selezionarne di più, fare copia, vedete, fare qui tasto destro, incolla e in questo campo sempre noi ci mettiamo questa volta un pochino tutto, ci mettiamo nome, cognome, editore, io mi sto inventando titolo per esempio anno e facciamo ok. Ed ecco che vedete che sta venendo da sola praticamente la mia bibliografia, quindi io che cosa ho fatto semplicemente, rivediamolo, io ho dovuto semplicemente creare con un foglio di calcolo, così seguendo le mie regole, con un foglio di calcolo la mia bibliografia, mettendoci un identificativo perché spesse volte degli autori scrivono più libri, quindi io posso avere la necessità di citare libri diversi di uno stesso autore, me la organizzo come mi pare, posso farla anche con Excel e la salvo come foglio di calcolo. Poi all'interno della mia tesi, quando io la sto scrivendo, che cosa faccio? Togliamo questa finestrina qua, vado all'interno del menu riferimenti e nel tasto altri campi io gli segnalo con sfoglia qual è il database esterno, quindi la sorgente esterna che io devo collegare al mio lavoro di tesi e vedete che lui mi citerà tutti i tab, quindi io qui potrò avere delle bibliografie monotematiche diverse per settore. Dopo che sono riuscito a fare la connessione o il collegamento o la registrazione, come volete voi, di una sorgente di dati esterna al mio foglio di calcolo, io nel foglio di videoscrittura, se faccio CTRL maiuscolo F4, ho questo pannellino molto comodo che mi segnala qual è la sorgente di dati esterni che ho collegato e io all'interno del menu tabella posso segnalare con un doppio clic qual è il reservoir di informazione che mi serve e qui posso semplicemente fare tasto destro, copia, incolla e poi scegliere il testo, il testo selezionando di questo record quei campi che io ritengo più opportuni. Utilizzare questa tecnica sia all'interno della tesi per scrivere qual è la citazione precisa collegata a quello che scrivo, ma sia all'interno, proprio alla fine della tesi, riguardo alla bibliografia. Bene, questa era la maniera che noi utilizziamo per realizzare manualmente le bibliografie in LibreOffice, utilizzando Writer e Calc, c'è uno strumento specifico, noi non lo utilizziamo, abbiamo soltanto fatto vedere a noi come ci piace fare questo tipo di attività. Il video finisce qui, ringraziamo a tutti per averlo visto fino alla fine, spero sia stato di vostra utilità, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.